buongiorno e benvenuti a questo seminario sul modelli e strategie per la digitalizzazione di successo nella pubblica amministrazione. Il titolo e l'abstract danno un'indicazione molto precisa di quelli che possono essere gli obiettivi secondo cui il Piano Nazionale di Recovery e Resilienza può dettare un meccanismo per la modernizzazione dell'APA. A questo riguardo, come rappresentante in Italia del SISC, devo sottolineare come ci sentiamo in prima linea nella possibilità di aiutare e di contribuire all'implementazione di un programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione. SISC è un consorzio per l'information and software quality, vale a dire è un consorzio dove, come vedete sulla scheda, ci sono degli sponsor tecnologici, degli sponsor di carattere più consulenziale che partecipano a dei tavoli di lavoro dove l'obiettivo qual è? L'obiettivo è stendere e condividere degli standard che possano essere punto di riferimento per determinare l'incontro tra offerta e domanda nel campo dello sviluppo e manutenzione del software. Il funzionamento di SISC è nella costituzione, nella stesura degli standard a cui arriveremo tra poco, è quasi democratico, in realtà trattandosi di un consorzio i partecipanti al consorzio vengono intervistati attraverso quelli che sono stati e che sono tenuti costantemente gli execs di forum per determinare quali siano gli indirizzi. Tra questi indirizzi sono emersi sin da principio quello che poteva essere un punto di incontro tra sviluppatori, sistema integrator e clienti pubblici e privati, la determinazione di misure metriche oggettive e automatiche per la misurazione dei punti funzioni e di determinate caratteristiche del software che fossero correlate alla qualità in esercizio dei prodotti software. Si tratta delle misure di reliability, performance efficiency, security e maintainability che vediamo sulla scheda. Queste sono state sintetizzate attraverso un lavoro di qualche anno in degli standard tecnici, poi passati e vidimati da OMG, diffusi e adottati da altri organismi, implementati da software vendors, quali CAST, che sta sponsorizzando questo seminario, e infine una volta dimostrata la loro validità sul campo, adottati da ISO tramite una via di approvazione preferenziale che lega OMG a ISO. Tra questi standard chiaramente quello degli automated function points ha già preso piede, sta già essendo utilizzato e permette di quantificare la dimensione funzionale delle applicazioni in maniera automatica e ha la sua utilità all'interno di quelli che sono i meccanismi di procurement. Quello che invece ritengo che possa essere, riteniamo che possa essere di maggiore ausilio all'interno di un momento in cui viene richiesto alla pubblica amministrazione una accelerazione particolare nel percorso di digitalizzazione, ma come diceva la pubblicità della Pirelli, la potenza è nulla senza il controllo, noi offriamo la capacità di controllare cosa succede all'interno di questa velocizzazione, ossia di avere gli indicatori, i KPI attraverso il riferimento agli standard che permettono di capire qual è il livello di qualità strutturale degli applicativi. Qualità strutturale che viene dettagliata da SISC, come dicevamo, all'interno di quattro pilastri principali, attraverso un numero limitato e selezionato di regole. Si tratta effettivamente di un numero di regole dello standard decisamente limitato, ma proprio al fine di poter essere regole incontrovertibili e su cui c'è un consenso generale tra qualunque addetto ai lavori, tra qualunque responsabile tecnico, sia che sia nei fornitori e nei clienti. Si tratta di uno standard, stavo dicendo degli standard perché inizialmente si trattava di quattro standard, come questi sono diventati ISO, si è deciso di avere un unico standard, ISO 5055. La possibilità che c'è è quella di inserire direttamente riferimento a questi standard all'interno dei contratti, soprattutto in virtù dell'essere ISO, si tratta di un riferimento quindi normativo che può essere inserito in maniera diretta all'interno di un contratto con la sicurezza che potrà essere riscontrato, confrontato e controllato. In virtù poi dell'essere stato emesso da Cisco all'interno della sua mission, questo potrà essere controllato automaticamente con degli strumenti, ad esempio con gli strumenti offerti da alcuni software vendor, tra cui Casta assolutamente. La conformance è estesa, nel senso che quando si è studiato lo standard si è cercato di agganciarlo a tutti gli standard preesistenti che fossero disponibili per la determinazione di quelli che sono gli attributi di qualità del prodotto software. Si tratta della serie 25.000, nello specifico la ISO 25.010 e la ISO 25.023. La ISO 25.010 è lo standard da tutti conosciuto che dettaglia quelli che devono essere gli attributi del software product, quindi attributi di prodotto. Alcuni sono chiaramente controllabili in maniera automatica, altri meno. Vedete evidenziati in arancione quelli da cui ha preso spunto SISC nel generare lo standard ISO 5055 di cui stiamo parlando. Sugli altri purtroppo non c'è ancora possibilità di andarli a vidimare in automatico, non ci sarà ancora lungo. Reputiamo che ci vorranno dei sistemi di intelligenza artificiale e semantica per andare a comprendere esattamente quali possono essere gli attributi di functional suitability, per esempio. Ma su quello ci sarà tempo per lavorare. Innanzitutto è il caso di iniziare ad adottare degli standard sugli aspetti più operativi, più legati alla qualità strutturale, in modo da poter guardare con tranquillità all'evoluzione funzionale, senza doversi preoccupare di quelli che sono i rework, i fermi in produzione, le problematiche di sicurezza. E questo per quanto riguarda la serie 25.010, stavo per dimenticare che per quanto riguarda il 25.023, che dettaglia alcune metriche, ma non dettaglia metriche che riguardano misure che possono essere relate al codice applicativo. e conseguentemente è stato ritenuto che un ulteriore standard non fosse in conflitto con questo, ma anzi compatibile e va a completare un po' lo schema di certificazione di quelli che possono essere il prodotto software. Andiamo un po' in dettaglio, rubo qualche secondo ancora alla vostra attenzione, prima di passare alla parte forse più dinamica di quello che può essere il panorama della software intelligence, perché poi di fatto il contributo che dà SISC è di fornire degli standard, delle metriche, che vengono utilizzate dalla software intelligence, come vedremo, per offrire un supporto alle decisioni che le pubbliche amministrazioni possono usare per il governo del proprio parco applicativo. Ma andiamo nel dettaglio tecnico di quelle che sono le indicazioni di come essenzialmente è formulato lo standard al suo interno. Per darvi un esempio, allora in ogni caso gli standard SISC sono pubblicati, oltre che tramite ISO, sono pubblicati sul sito OMG e quindi possono essere visibili in maniera gratuita andando sul sito OMG e scaricati, non solo quello di cui sto parlando, ma anche gli standard dei function point, degli enhancement function point e altri standard come quello della misurazione del debito tecnico, della quantificazione del debito tecnico automatico. E può essere anche questo molto interessante per andare a verificare lo stato di salute di un parco applicativo per un'amministrazione. Quello che stiamo vedendo è come funziona una regola strutturale di qualità del software. Una regola strutturale di qualità del software può essere formulata tramite una descrizione fatta a parole che può avere delle sottodescrizioni, dei referenti che sono delle normali sigle che vanno a identificare il tipo di vulnerabilità di non good practice, ma soprattutto l'innovazione forte che è stata fatta da SISC e da OMG è di descrivere queste regole in maniera che possano essere automatizzate. Quello che vedete come common detection pattern qua sotto è esattamente quello che serve per poi implementare un sistema di controllo che vada a verificare la regola su qualunque software scritto in qualsivoglia linguaggio o anche in un mix diverso di linguaggi. E questo è essenziale per poter dire di avere un sistema che va a coprire tutto il mio parco applicativo e sostiene una digitalizzazione in maniera consistente, coerente anche nel tempo e avendo le stesse metriche, gli stessi indicatori tra amministrazione e amministrazione, tra fornitore e fornitore, tra fornitore e amministrazione a cui fare riferimento. Il programma SISC in realtà è una roadmap che ha visto diversi successi su seguirsi. Si tratta di automated function points che sono diventati ISO nel 2019, si tratta delle quattro misure di qualità strutturale che sono diventati un unico standard ISO 5055 ad aprile di quest'anno, si tratta dello standard OMG della misurazione del debito tecnico, si tratta dello standard sempre OMG degli automated enhancement points che arricchiscono i function point degli aspetti tecnici per andare a determinare poi programmi di quantificazione della produttività e quella che poi si può di fatto considerare la produttività aggiustata per la qualità. Detto questo, ringrazio ancora Casta per l'opportunità che ha dato a SISC, come SISC ringrazio Casta per questa opportunità di partecipare a questo seminario e passo la parola al collega Stefano Castelluccio che ci illustrerà come la software intelligence può essere da ausilio a una digitalizzazione di successo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Castelluccio, sono Solution Design Manager in Cast e quindi qui avete un quadro che illustra a grandi linee che cosa è Cast. Cast è una piccola multinazionale, siamo in 350 in questo momento divisi su diverse sedi in giro per il mondo e noi operiamo direttamente su clienti, ne vedete qui alcuni, operiamo anche attraverso OEM, Global System Integrator e sosteniamo e utilizziamo, ci appoggiamo a istituti ricerca, a standard per quanto riguarda le nostre misurazioni. Che cosa facciamo? Cosa proponiamo? Noi siamo fornitori di soluzioni e servizi per la software intelligence, concetto che ha accennato Michele Pocanzi. Entriamo un po' più nel dettaglio di che cosa sia la software intelligence. Qui abbiamo in alto la definizione che troviamo su Wikipedia per la software intelligence. Di fatto che cosa significa in pratica? La software intelligence è un insieme di pratiche, di strumenti e processi a supporto del governo dei sistemi software e del loro ciclo di vita. Quindi di fatto lo scopo è quello di fornire delle informazioni, delle misurazioni che siano utili per il business e utili per prendere decisioni e per il governo dei sistemi software. Allora, noi come Cast implementiamo la software intelligence basandoci su questi quattro pilastri, quattro pillars che vedete illustrati in questo momento. Allora, uno riguarda la misurazione del rischio secondo diversi aspetti e sfaccettature relativi alla robustezza del software, all'efficienza, alla sicurezza, ad aspetti di manutenibilità e aspetti relativi alla componente open source e agli aspetti legati alla predisposizione per il cloud. Quindi questo permette di fornire misure generali che individuano i rischi principali e permettono di focalizzarsi sulle aree di maggior interesse per quanto riguarda il rischio. Abbiamo una componente che riguarda la misurazione del sizing dell'applicazione funzionale e non funzionale. Quindi questo è focalizzato alla gestione dell'effort assessment, quindi al controllo dei fornitori e della produttività. Quindi misure di produttività che permettono anche confronti e comparazioni. Un altro aspetto riguarda i software flow, cioè l'analisi e la ricerca delle root cause, delle cause, dei rischi che si misurano relativamente al primo pillar che abbiamo visto all'inizio. Quindi laddove esista un rischio di robustezza, di efficienza, sicurezza o altro, andiamo ad indicare, individuare quali sono i patterns, quali sono i punti, le strutture all'interno del codice che creano, determinano quel determinato rischio. Gli strumenti permettono inoltre di tracciare eventuali correzioni, piani di rimedio riguardanti questi difetti rilevati e verificare l'andamento, il miglioramento o il peggioramento del livello di rischio dell'applicazione nel corso del suo ciclo di vita con misure successive. Un ultimo pillar riguarda la modernizzazione del software e ha lo scopo di rendere comprensibile la struttura di software complessi, in modo tale che sia più agevole il processo sia di comprensione funzionale alla manutenzione stessa del software, ma anche mirato soprattutto a possibili interventi di modernizzazione. Quindi laddove è necessario effettuare delle trasformazioni nell'applicazione, di parte dell'applicazione o di intere applicazioni, è necessario comprendere di quali parti sia composta, di quali tecnologie, di quali sezioni e procedere con le trasformazioni in modo consapevole, sapendo esattamente come le varie parti interagiscono tra di loro nell'insieme dell'applicazione. Quali sono i nostri strumenti di fatto? Come effettuiamo le misurazioni riguardanti la software intelligence? Ci basiamo su due piattaforme principali di misurazione. Una è Cast Highlight, totalmente in SAS ed è focalizzata su misure molto rapide di portfolio, orientate tipicamente a processi di due diligence, quindi di verifiche iniziali e da considerare uno strumento che permette di effettuare una visione ad alta quota del parco applicativo, andando di individuare quali sono le aree più potenzialmente esposte a vari tipi di rischi che riguardano per esempio la salute del software, riguardano le componenti open source, riguardano la predisposizione o meno al passaggio in cloud per applicazioni. Quindi analisi molto veloci e lo scopo è individuare le aree del terreno del software che sono più interessanti per quanto riguarda attività successive di prospezione molto più dettagliate. E la parte successiva, diciamo, il dettaglio laddove la Highlight individua le aree a maggior rischio o a maggior interesse comunque per l'analisi, c'è l'altra piattaforma, Cast MRI, che permette un'analisi molto più in dettaglio, molto più approfondita di quelle applicazioni, di quegli insiemi di applicazioni che hanno manifestato l'interesse a primo livello con Cast Highlight. Qui abbiamo diverse dashboard che permettono visualizzazioni più ad alto livello del rischio, permettono di entrare nelle root cause, quindi di andare a vedere i flows dell'applicazione. Abbiamo delle verticalizzazioni specifiche per la security o per GDPR. Abbiamo in particolare una tecnologia riservata alla modernizzazione che è imaging e di quello vedremo maggior dettaglio entrando più nello specifico di che cosa è e che cosa fa. Come viene eseguita? La prima parte Highlight fa un'analisi, come abbiamo detto, di superficie, MRI fa un'analisi molto più di dettaglio. Questa analisi molto più di dettaglio si basa sul concetto di analisi strutturale, ossia che cos'è un'analisi strutturale? Vediamo con un esempio sulla sinistra, relativo al comportamento dei classici code checkers che analizzano le varie componenti del software, verificano tipicamente delle regole di pratiche di codifica, di leggibilità e giudicano sulla base del numero di problemi individuati le varie componenti di una determinata piattaforma software, comprese per sé stante, ciascuna indipendentemente dalle altre, senza tener conto delle interdipendenze. Il problema sta proprio nelle interdipendenze. Allora, quello che fa un'analisi strutturale come quella che effettuiamo noi è andare a considerare l'applicazione, lo vedete nella destra, sul suo intero stack che va dalla parte per esempio di front-end, mobile, web e arriva fino al dato prendendo in considerazione tutti i percorsi di interconnessione statica tra i vari layer che compongono l'applicazione. Perché? Perché soprattutto nei layer di interconnessione, nei protocolli di interconnessione, sta la maggior parte dei problemi che causano i blocchi in produzione o problemi di sicurezza o breaches, violazioni di sicurezza. Quindi l'analisi viene effettuata da più ampio spettro, esplicitata in termini di indicatori neutri di misurazione del rischio su diverse dimensioni e focalizzando, fornendo sicuramente delle indicazioni sulle coding practices, le coding readability relative alle singole componenti, ma andando anche e soprattutto ad esaminare le interrelazioni per le parti per individuare nella logica del pareto, quindi quel 20% di cause che causano l'80% degli outage in produzione. Le misurazioni che noi effettuiamo si basano su tutta una serie di standard, implementano tutta una serie di standard, li vedete qui, entrando nello specifico del processo di modernizzazione, come interpretiamo il flusso di un processo di migrazione, di modernizzazione, utilizzando le nostre soluzioni ai nostri prodotti. Il percorso, il journey, il viaggio inizia da una parte di esame sul portafoglio complessivo che ci permette di individuare quali sono le applicazioni che sono pronte, diciamo, sono già moderne, sono già per esempio adatte per un passaggio in cloud, non hanno bisogno di interventi particolari, da quelle che invece richiedono una rifattorizzazione, quindi delle correzioni sul codice o addirittura delle attività di riengegnerizzazione e ridefinizione dell'architettura. Quindi una prima analisi permette di individuare la mappa delle applicazioni e individuare su questa mappa delle aree e delle applicazioni che sono candidate per un certo tipo di processo di modernizzazione. Nel caso della rifattorizzazione i step principali sono chiaramente rimuovere i cloud blocker, cioè quelle caratteristiche del software che impediscono o ostacolano il passaggio in cloud, per esempio, nel caso in cui si stia considerando un passaggio in cloud. Dopodiché i sistemi devono essere messi sotto controllo nella loro fase di evoluzione e il loro processo di modernizzazione per vedere se effettivamente le correzioni vengono effettuate e fino a che punto e se si arriva ad avere un livello di prontezza per il cloud che sia soddisfacente. Nel caso di un percorso di re-architecti, soprattutto pensiamo aspetti di modernizzazione dei sistemi legacy, il percorso richiede innanzitutto un esame dell'architettura dell'esistente, quindi una chiara visualizzazione di come l'applicazione è strutturata, di come, da che cosa è composta e da come le parti tra loro si interconnettono. Dopodiché è necessario verificare che l'architettura effettiva dell'applicazione a cui si vuole tendere rispetti il modello che si è stato scelto. Attraverso analisi successive delle varie versioni dell'applicazione in fase di re-architect si verifica l'aderenza al modello architetturale finale che si vuole raggiungere. Alla fine esiste sempre la possibilità di rimonitorizzare l'intero portafoglio di applicazioni per vedere come la salute complessiva, come le caratteristiche complessive del portafoglio, sono cambiate e hanno virato verso quelle caratteristiche che sono attese nel processo di modernizzazione. Nello specifico della modernizzazione entriamo su uno degli strumenti, quello che è, diciamo, tipicamente dedicato al processo di modernizzazione, l'abbiamo visto precedentemente, era il caso in cui tipicamente è applicabile in quelle situazioni in cui c'è una parte di re-ingegnerizzazione, di re-architect dell'applicazione, quindi per esempio una trasformazione di un'applicazione legacy in applicazione a microservizi, quindi con sostituzione di parti obsolete, con parti che coprono le stesse caratteristiche funzionali, con tecnologie differenti, più moderne, come per esempio quella dei microservizi. Allora, cosa si può fare con questo strumento, con Castiglion? Si può senz'altro accelerare l'aspetto di learning, di apprendimento sull'applicazione. L'applicazione ha delle caratteristiche che possono ridurre il tempo di apprendimento per i membri del team di sviluppo, dei nuovi membri del team di sviluppo quando ne vengono aggiunti, quindi parliamo di una situazione dinamica di un team che può crescere o calare nel tempo secondo le necessità. Quindi una volta che c'è un'introduzione di nuove persone, deve essere rapido il tempo in cui le persone apprendono l'ambito in cui devono lavorare. Quindi focalizzato alla rapida comprensione delle caratteristiche dell'applicazione, come è fatta da cose composte o da come è architettata. L'altro aspetto è appunto di discovering dell'architettura, quindi fornire strumenti che permettono di visualizzare in modo chiaro l'architettura dell'applicazione e riducendo appunto il tempo che gli architetti spendono per definire nuovi design o esplorare il design esistente oppure per esprimere nuove idee oppure illustrare i processi di sviluppo, quindi basandosi su un'architettura esistente e utilizzando un modello che sia facile da comprendere. Quindi di fatto learning blueprinting e poi ovviamente l'ultimo, ma non ultimo, produrre un'accelerazione del processo di modernizzazione. Quindi avendo un sistema che facilmente mi rende comprensibile l'applicazione e mi permette di rapidamente illustrare e definire dei perimetri di modifica e delle strategie di modifica, ovviamente questo riduce i tempi di analisi, i tempi di design e mi permette un controllo molto puntuale del tipo di intervento di modernizzazione che io sto effettuando. Quindi qui abbiamo di fatto un esempio di uno degli output che vengono visualizzati nello strumento. Come vedete quando si parla di visualizzazione dell'architettura il sistema permette di individuare tutti i layer di cui è composta l'applicazione in modo semplice, in modo navigabile attraverso degli zoom, quindi posso mettermi a diversi livelli di astrazione nell'analisi dell'applicazione e quindi in questo modo ho la possibilità di individuare chiaramente i vari strati applicativi, l'intero stack applicativo dell'applicazione che qui effettivamente è individuato e visualizzato in tutte le sue componenti così che sia possibile focalizzarmi chiaramente su area dell'applicazione sulle quali devo fare intervento oppure semplicemente semplicemente per comprendere l'architettura dell'applicazione. Mi permetto quindi, il sistema mi permette di esplorare sia le interrelazioni tra le parti, sia le interrelazioni tra le tecnologie, sia le interrelazioni tra sistemi, tra porzioni di applicazione che in qualche modo customizzabili. Io posso definire la tassonomia con la quale l'applicazione può essere osservata, quindi applicando diversi criteri che possono essere adattati al tipo di indagini e al tipo di intervento che deve essere effettuato sull'applicazione. Allora, questa era a grandi linee l'illustrazione dei nostri prodotti, dei nostri servizi, delle nostre tecnologie e soprattutto riguardanti gli aspetti di modernizzazione. Per qualunque informazione, qualunque richiesta di chiarimenti aggiuntivi, noi siamo naturalmente a disposizione per fornirvi tutto quello che vi occorre. Grazie a tutti! Grazie a tutti!